carissimi amici sono qui compadro d'air frate capoverdiano cappuccino e e qui in italia per affiancare padro ottavio un pochino di tempo tanti progetti sono in corso uno è l'ospice cosa pensi dell'ospice in costruzione e osp è un progetto bellissimo per capo verde perché il primo progetto del genere capo verde e noi capo verde speriamo tanto di questo progetto pensiamo tutti che è una cosa buona che può aiutare tanti malati già nella fase terminale che una cosa proprio bellissima l'unica quindi dare dignità alla vita fino all'ultimo istante è un valore importante per te sì sì per noi è un valore molto importante principalmente noi frati capocini che siamo a fianco le persone malate così è una forma di aiutare dare una morte con dignità è una cosa importante per per il popolo di capo verde ecco tu hai visto il progetto di recente a che punto siamo se adesso già siamo già quasi alla fine il muro è già quasi tutti pronti i prossimi mesi prossimo e vai a capo verde tecniche per vedere come smettere tutte le le cose le impianti tutte queste cose già credo che per il principio gennaio siamo già opposto possiamo dire che diamo appuntamento per l'apertura speriamo nella prima parte del prossimo anno e spero che si perché già tutto il materiale sono già giù a capo verde sono già arrivate e adesso con il lavoro abbiamo cominciato il lavoro perché il pandemi abbiamo fermato un po adesso poi poi adesso abbiamo cominciato e speriamo che già in gennaio febbraio il massimo siamo già pronto per aprire inaugurazione io guardo toni perché mi sa che dobbiamo tenere le valigie pronte e vi racconteremo questa apertura questa inaugurazione andiamo avanti con fiducia amses c'è grazie a tutti Grazie a tutti.